Un nuovo approccio all'oncologia multidisciplinare, questa la nuova frontiera della cura che passa da una visione olistica e un modello sanitario che vede un legame a doppia mandata tra benessere delle persone e salute del pianeta. Si chiama approccio One Health, il tema è stato al centro del dibattito che si è tenuto nell'ambito del forum mediterraneo in sanità. Una visione che tenga conto della necessità di fare diagnosi preventiva attraverso gli screening, diagnosi predittiva attraverso quelli che sono i livelli anche di ricerca scientifica che oggi ci consentono di fare la diagnosi predittiva con l'oncogenomica, con le scienze omiche, ma soprattutto nell'ottica di creare un contesto, un ambiente assolutamente favorevole a che si evitino le insorgenze patologiche e oncologiche. Una visione a 360 gradi che si concentra soprattutto sulla prevenzione e sugli screening. Ci sono già dei dati che ci dicono quanto questo approccio multidisciplinare incide positivamente nella guarigione? Assolutamente sì, più alti sono i livelli di estensione e di adesione ai programmi di screening, prima si evitano interventi demolitivi e spesso anche non risolutivi della patologia oncologica. Noi vediamo ancora oggi tante lettere che vengono inviate dalle ASL che vengono o ignorate o cestinate. E quello è un treno che passa, un treno che invece va preso al volo perché un polipo che magari oggi è benigno, fra un anno può diventare un tumore devastante, maligno e magari anche con un esito in fausto.